Salve da Michele Expert, sono appena rientrato dalla Sila da Camigliatello Silano e veloce veloce ho preparato questo piatto che si prepara in maniera abbastanza veloce, vuole dire la carbonara, spaghetti alla carbonara con guanciale e tutti i profumi, il nostro formaggio in questo caso ho messo questo nostro locale che è anche un grande formaggio ecco, ci accontentiamo così, un piatto squisito che si prepara in meno di 20-25 minuti.